Salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un altro episodio di Happy Adventure Friends Allora, in questo episodio ci saranno Willy e Flucky, Willy sarà Flippy e Sara Flucky Si Sara e Flucky se stessa Ok, divertiteli La musica la lascio, devo fare in modo di non fare in musica Divertiteli Eh? Ma quello non è Willy Ciao Sara, si Sara, ciao Flucky, mi serve un passaggio Ok, entra pure Willy, ciao Vai del formaggio Ma che cavolo, Willy Oh mio Dio Eh? Ma che? Mi dispiace Willy Ma che? Oh mio Dio Vabbè Ecco Willy, oddio, è diventato di evil Ah, che bravo Willy, non falla Ah, non falla Willy, adesso che eravamoague Eh? EIT? no ma dai ma l'ho fatto ah ti credo che non farmi del male non farmi del male dai ho messo la ruota contenta dai mettiamoci la cintura beh io so che tremerà qualcosa ecco ti piace il mio coltello? come ti piace il mio coltello? ah oh ah Willy ah flacchi svegliati dai svegliati flacchi guarda la strada guardala flacchi sta bene? non preoccuparti ti salverò Ma ammazza di nuovo, mi dispiace, dai su, resisti, rischio c'è tanto Willy, oh, oddio, oddio, Oh, no, guardate, commentate e iscrivetevi. e fatemi vedere se qua dicono i doppiatori fatemi vedere devo vedere i doppiatori no non lo fanno vedere aspettate ah non lo fanno vedere i doppiatori vabbè